Io provo a riversarvi quello che ho capito di questo tavolo, come dice Stefano mi preoccupo di semplificazione e digitalizzazione che vengono accostati perché non è possibile parlare di semplificazione oggi senza parlare di digitale, ma vedremo che non è più così scontato. E parto da una frase di Flaiano perché ieri al tavolo c'erano poche imprese rispetto a questo tema, è stato assolutamente trasversale come problema, io l'ho sentito nelle relazioni dei miei colleghi degli altri tavoli, burocrazia, troppe norme, norme complicate, eppure nel 2014 il tavolo sulla semplificazione era ancora troppo poco sexy per gli imprenditori e questo è un problema. Forse per lo stesso approccio che abbiamo avuto alla semplificazione finora, io ho appena postato sui social una frase di Ennio Flaiano che dice, tratta dal diario notturno, gli presentano il progetto per un allimento della burocrazia, ringrazia vivamente, deplora per l'assenza del modulo H, conclude che passerà il progetto per un sollecito esame all'ufficio competente che sta creando, cioè per Flaiano in Italia il progetto per un allimento della burocrazia inizia con la creazione di un nuovo ufficio. E questo è l'approccio alla semplificazione che abbiamo avuto in questo paese, un approccio dove esiste un ministero per la semplificazione da circa 17 anni, tendenzialmente la semplificazione invece di diventare un processo a termine è diventata un processo permanente che non si conclude mai e che quindi in genera sfiducia nei confronti delle imprese. Gli hashtag del nostro intervento sono questi ovviamente, del nostro tavolo, delle discussioni, digitale, servizi, semplificare. Quali sono le criticità che abbiamo riscontrato? Innanzitutto il rapporto tra pubblica amministrazione e imprese rimane ancora troppo complesso, è una relazione complicata per dirla con gergo di Facebook. Le imprese si lamentano perché per andare dalla pubblica amministrazione ed ottenere quello che devono, lo dicevamo prima, lo diceva anche prima Walter Passerini, perdono tempo, perdono risorse, perdono competitività, alcune volte per dare all'amministrazione delle informazioni che esistono già, delle banche dati, nelle pubbliche amministrazioni e che le leggi che da oltre dieci anni si occupano di digitalizzazione non sono riusciti a cambiare, perché ancora dobbiamo andare allo sportello, ancora dobbiamo presentare dei documenti. Le stesse però amministrazioni o almeno i più evoluti all'interno delle pubbliche amministrazioni si rendono conto che utilizzare i vecchi schemi molto complessi li priva di efficacia, quindi la pubblica amministrazione sente di essere inefficiente ma non riesce a capire come poter andare più veloce, come correre più veloce, come avere un altro passo e allo stesso tempo si rendono conto di perdere fiducia e di non riuscire a fornire servizi di qualità. E allora abbiamo provato a dettare poche proposte abbastanza concrete però nell'era dell'open government non è possibile dire piove governo ladro e quindi dire che il problema è solo da parte di un attore che fosse la pubblica amministrazione e il governo e allora abbiamo pensato di costruire delle proposte e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al tavolo e soprattutto la mia collega Erika Lazzarini abbiamo provato a stilare cinque proposte, la prima per la PA, le imprese hanno voglia di identificarsi una sola volta cioè vogliono avere un unico profilo, un'unica password, un unico portale su cui entrare e lavorare con ASL, ministeri, comuni, regioni, non hanno più voglia di perdersi in PEC, n profili, n password che si perdono, servizi che non funzionano e dati da rimettere mille volte. Poi soprattutto le imprese hanno voglia di entrare nel co-design dei servizi se le aziende lavorassero e progettassero i propri servizi online come li progetta la PA cioè senza tenere conto delle esigenze degli utenti le aziende fallirebbero e in certo qual modo il governo e le amministrazioni falliscono nella misura in cui prima di progettare dei servizi online che vengono decisi a tavolino non consultano gli utenti e non consultano qui siamo in un'associazione di categorie e le associazioni rappresentative dei loro interessi. Dopodiché le imprese chiedono che siano semplificate le norme, non 100 testi normativi ma 1, non tanti strumenti se utilizzano tra di loro la posta elettronica ancora non capiscono perché utilizzare la posta elettronica certificata che tra l'altro al mondo esiste solo in Italia e in Tanzania. Ma ovviamente se non lo sapevate questa è una cosa che vi racconto io in tutto il resto del mondo si usa la mail ordinaria. Concludo però con delle proposte anche per il mondo dell'impresa cioè cosa possiamo fare nell'attesa che qualcuno capisca questi discorsi, nell'attesa che qualcuno ci venga incontro innanzitutto abbiamo bisogno di promuovere la cultura digitale cioè ancora oggi anche l'imprenditore io sono un professionista, anche i professionisti siamo ancorati al cartaceo e fatichiamo ad avere fiducia non tutti ovviamente ma soprattutto quelli meno giovani e meno avvezzi a questi strumenti e quindi il ruolo deve essere di promuovere, di far capire quanto è semplice e di far capire che fare la coda in banca o fare la coda allo sportello ci fa spendere delle risorse che utilizzando i servizi online do l'onbanking potremmo risparmiare. La seconda proposta è una proposta che vi lanciamo e che lanciamo soprattutto a CNA e CNA giovani è quella di fare un monitoraggio cioè è emerso che le amministrazioni di cosa hanno paura? hanno paura delle sanzioni. Il problema perché le norme prevedono già delle sanzioni per chi chiede certificati, per chi non digitalizza ma ahimè non c'è nessuno che faccia questa azione di monitoraggio in modo sistematico all'interno dell'APA e allora l'idea è quella di trasformare i cittadini, le imprese e le associazioni di categoria in monitori che verificano che i soggetti rispettino queste norme e con un meccanismo di gamification che si sa la Maker Faire funziona sempre benissimo possano premiare quelle che sono le amministrazioni che hanno lavorato davvero bene. Io a questo punto concludo con c'è qualcuno che ci ascolterà, c'è qualcuno che recepirà queste proposte e speriamo assolutamente di sì. Vi ringrazio per l'attenzione.